intanto oggi ci vediamo tra due feste ieri primo maggio domani domenica ci raccontiamo anche le cose salienti accadute ieri complessivamente non è molto non ci discostiamo molto da ieri in sostanza abbiamo 206 nuovi casi oggi tutti non gravi ma insomma comunque 206 positivi in più sono complessivamente 25.850 dall'inizio dell'epidemia siamo 192.135 nuovi complessivamente tamponi ieri erano più di 5.000 oggi che sono poi quelli fatti ieri primo maggio sono 3.871 abbiamo 332 nuove guarigioni complessivamente 12.913 e meno 161 casi attivi quindi passiamo da 9.484 a 9.323 quindi siamo largamente sopra come il numero dei guariti è largamente superiore ai casi attivi ed è devo dire anche per il numero di casi che abbiamo avuto ma è la differenza più alta tra tutte le regioni quindi sapete abbiamo complessivamente 9.000 dicevamo 300 casi attivi e 12.900 guarigioni quindi sono 3.600 guariti in più rispetto al numero dei casi attivi è il numero più alto in assoluto delle regioni presenti nel nord Italia siamo in compagnia di Veneto il Friuli Venezia Giulia che hanno questo dato di inversione ci sono altre regioni nel centro e nel sud ma stiamo parlando di numeri molto molto più piccolini quindi anche questo è un dato significativo che registriamo e che ci testimonia il fatto dell'evoluzione ci sono complessivamente in isolamento a casa quindi con sintomi lievi o anche assenti in attesa di dichiarazione della guarigione 6.296 sono 87 di meno rispetto a ieri segno che queste guarigioni sono state dichiarate abbiamo in terapia intensiva 196 pazienti sono uno di meno rispetto a ieri ricorderete i momenti in cui eravamo a oltre 400 pazienti ricoverati in terapia intensiva quindi abbiamo dimezzati anche negli altri reparti abbiamo 79 ricoverati in meno quindi vi ho già detto dei 12.913 guariti complessivi e ora passiamo come sempre al dato dei decessi oggi sono 35 ieri erano 29 siamo calati stiamo calando ancora troppo lentamente però stiamo calando e quindi questo comunque è un dato che ci fa pensare bene rispetto al futuro alla riduzione che ci auguriamo sempre più rapida e che possiamo arrivare finalmente a dichiarare i 0 0 che alcune che in alcune province naturalmente c'è già ci siamo vicinissimi a in altre ancora dobbiamo dobbiamo lottare per arrivarci sono questi 35 18 uomini 17 donne che erano residenti nelle province che vi sto per dichiarare 6 a piacenza 6 a parma 5 a reggio emilia 4 a modena 9 a bologna nessun decesso come vi dicevo in alcune province nessun decesso a ferrara e nessun decesso a ravenna 3 fuori cesena tutti e 3 nel cesenate e 2 a rimini neanche nessun decesso di cittadini residenti in altre regioni per quanto riguarda i casi di positività ne registriamo 60 a piacenza sono totale in totale 4.175 22 a parma 3.199 20 a reggio 4.733 26 a modena 3.704 45 a bologna 4.124 4 a imola 3 383 6 a ferrara 932 in romagna sono complessivamente 23 in più una a ravenna vedete ravenna lo ridico un'altra volta 0 decessi un nuovo caso la percentuale di incidenza più bassa in assoluto ha superato in questo come dato positivo anche per qualche decimale ma ha superato ferrara complimenti alle istituzioni alle medici agli infermieri all'azienda della romagna per questo risultato importante molto molto rilevante a ravenna 7 casi in più a forlì per fare 902 e due in più a cesena 693 13 in più a rimini la rete ospedaliera con conta di 4140 posti letto aggiuntivi non vi sto a raccontare naturalmente vi ho già detto quando sono ovviamente sono calati abbiamo però il dato generale che vi comunico perché è significativo abbiamo 3.713 posti letto ordinari sono 54 meno di ieri continua l'operazione di riconversione per tornare a situazioni di normalizzazione all'interno degli ospedali e sono anche 32 letti di terapia intensiva in meno oggi siamo a 427 complessivi ovviamente stiamo parlando di letti covid evidentemente e per quanto riguarda l'attività dell'agenzia per la sicurezza territoriale la protezione civile registriamo oggi l'arrivo di 520.000 mascherine chirurgiche 80.000 mascherine ffp2 100.000 mascherine monovelo 18.000 provette per tamponi e 18.000 tamponi per campioni rinofaringei e abbiamo tra ieri oggi sono arrivati nuovi infermieri volontari dalla task force nazionale sono 15 infermieri che sono stati ripartiti secondo le richieste 1 a bologna 3 a ferrara 3 a modena 2 a parma 2 a reggio emilia e 4 alla usla della romagna complessivamente 5 dall'inizio della epidemia 5 contingenti di infermieri per un totale di 84 infermieri 4 contingenti di medici per 56 ieri venerdì prima maggio festa del lavoro abbiamo comunque avuto alla in attività 619 volontari di protezione civile ancora un abbraccio a ognuno di loro per il lavoro incessante che stanno facendo e cito anche quelli coordinamenti più provinciali con più volontari impegnati dall'inizio sono quelli piacenza parma rimini e reggio emilia complessivamente dall'inizio dell'attivazione volontariato abbiamo accumulato 37.943 giornate complessive vi segnalo inoltre che sta crescendo anche il numero degli scout impegnati la netta maggioranza rimane sotto i 40 anni 83 per cento e oltre la metà a meno di 25 anni e circa la metà è impegnata a confezionare pacchi viveri e consegna domicilio degli acqui della spesa il 21 per cento confezione distribuisce le mascherine nei propri comuni bravi circa 50 volontari offrono compagnia alle persone anziane con servizio di contatto telefonico e complessivamente visto che oggi parliamo approfonditamente di scout della gesci ci sono 1.288 volontari divisi ovviamente per provincia oggi abbiamo da dichiarare anche la segnalare che volontari del coordinamento provinciale di rimini hanno installato una tenda lo sapete presso la casa di cura villa maria e ne abbiamo in totale tre punti pre triage a rimini uno per gli altri due sono uno presso la clinica nuova ricerca e l'altro presso la casa circondariale i casetti e poi non vi dico altro per questo oggi sarò anche particolarmente breve nei commenti che ricominceremo lunedì in maniera più approfondita però vi segnalo sui numeri ancora un commento ieri abbiamo avuto 208 casi e 206 oggi siamo al record della fase calante non abbiamo mai avuto in fase calante 206 nuovi casi ne abbiamo sempre avuti di più vi segnalo anche che in fase crescente 208 casi li abbiamo avuti il 12 di marzo vi segnalo anche che in quella fase raddoppiavamo i contagi in due giorni circa due giorni due giorni e mezzo vi segnalo che il 13 marzo abbiamo avuto 316 casi 381 il 14 449 il giorno 15 di marzo erano quasi un altro mondo vorrei dire rispetto ai numeri che oggi possiamo contare sono ancora troppi naturalmente i nuovi contagi però vi rappresento che sono essenzialmente dovuti ai due ultimi contagi ai due ultimi focolai che contiamo e quindi in gran parte le case protette e anche i contagi di carattere familiare all'interno quelli che io chiamo contagi di condominio alla fine alcuna due informazioni pratiche la prima riguarda dalle strutture sociosanitarie le case protette le strutture per disabili non siccome mi hanno chiesto di precisare lo faccio volentieri le visite sono vietate sia in quelle pubbliche ovviamente che in quelle private abbiamo bisogno di salvaguardare i nostri anziani gli anziani sono uguali sia che siano nelle case protette pubbliche in quelle private quindi è vietato l'ingresso nelle case protette per le visite agli anziani fino a nuova ordinanza del Presidente della Giunta e vi segnalo anche che tutte le domande di cassa integrazione in deroga presentate fino a 14 di aprile sono state inviate all'inps e anche alle banche per l'erogazione dell'anticipo della cassa integrazione in deroga tutte le domande quindi questa è un'ottima notizia che volevo darvi vi segnalo anche che il tema dell'attrezzarsi per la riapertura delle scuole materne e anche io mi auguro delle scuole elementari e dell'obbligo con quel post sulle misure cinesi ha avuto un grandissimo successo ma soprattutto ha avuto il successo tra le maestre di scuole elementari in particolare ringrazio una maestra dell'appennino una maestra che mi ha scritto una maestra di quelle in quei posti dove teniamo ancora aperte le scuole elementari anche se le scuole sono anche se le classi sono multiclassi perché non ci sarebbe il numero sufficiente ma insomma una maestra che si lamenta del fatto che non può avere con sé i propri bambini mi auguro che al più presto i bambini possano stare accanto alla loro maestra e allo stesso modo al contrario la maestra possa continuare riprendere a fare la sua attività pedagogica nei confronti di quei bambini un saluto a tutti quelli che hanno bisogno di questo contatto di questa crescita insieme alla fine di tutto oggi ringrazio Stefano Asprea che è un giornalista dell'agenzia regionale che è l'autore del colibri del disegno del colibri con la sagoma della regione Emilia Romagna il colibri che si alza in volo per portare qualcosa una goccia per spegnere il suo incendio e quindi fa la sua parte grande successo di pubblico e di critica saluto Stefano e lo ringrazio davvero per avermi in qualche modo consentito di pubblicare il suo disegno la sua grafica insomma sono molto contento di avere anche tra i giornalisti dell'agenzia regionale non solo Stefano Asprea li ho ringraziati già una volta ma il segnalo che tutti i contenuti di queste dirette sono ovviamente prodotti da loro in qualsiasi giorno di domenica, di festa, di sabato sempre tutte le volte che andiamo in onda e non soltanto perché i comunicati li facciamo anche quando per esempio ieri primo maggio e non soltanto tutti i giorni da quando è iniziata l'epidemia così come ringrazio soprattutto Adriana Giannini che è la responsabile del servizio di sanità e di salute pubblica della regione che ogni giorno mi invia i dati perché si possano ovviamente commentare un po' in anteprima rispetto al comunicato dell'agenzia così come ringrazio ovviamente naturalmente tutti i dirigenti e i collaboratori dell'assessorato della direzione sanità e politiche sociali della regione per il lavoro costante fatto giorno per giorno in tutti questi in tutte queste in tutte queste settimane naturalmente non ringrazio oggi tutti tutte le persone tutte quelle del servizio sanitario che ovviamente lo meritano in ogni secondo ma ovviamente oggi diciamo che ho dedicato questo questo ringraziamento alle persone che più direttamente rendono possibile la nostra data in onda per il fatto che in ogni giorno c'è un comunicato in ogni giorno c'è qualcuno che elabora i dati e ci consente di andare avanti mi auguro che questo trend questi 206 che è il nostro record di oggi e di sempre in discesa sia rapidamente superato nelle prossime giornate che presto possiamo contare vicino a zero casi ma insomma stiamo andando bene stiamo andando in una direzione senza rimbalzi mi auguro che anche la prossima settimana sapendo che da lunedì molte attività produttive la gran parte riaprono che tutti manteniamo la testa sulle spalle la responsabilità che abbiamo insomma quella di mantenere il distanziamento fisico è quella di stare sicuri stare al sicuro al lavoro stare al sicuro nelle nostre case stare al sicuro a questo punto anche nelle nostre passeggiate che faremo all'interno ovviamente del nostro comune della provincia dei giardini eccetera stiamo al sicuro questo è quello che dobbiamo avere sempre presente quindi prudenza la prudenza che abbiamo imparato in queste settimane che dobbiamo mantenere nelle prossime per riacquistare ancora di più la libertà di cui abbiamo tanto bisogno insomma questo è con questo con questa raccomandazione questo auspicio che vi saluto e vi do l'appuntamento a lunedì prossimo a buona serata buona serata buona serata Grazie a tutti.